Fragma Security è una startup nata all'inizio del 2020 che si occupa di sicurezza delle informazioni. Quindi i nostri servizi sono legati al mondo degli assessment, penetration test, vulnerability assessment, al mondo della compliance, agli standard normativi internazionali, in particolare alla ISO 27001. Questi aspetti li traduciamo anche nel mondo dell'operation technologies, in quanto l'Italia è un paese produttivo ed sarebbe limitante non considerare tutto quello che riguarda la produzione e l'industria cyber security.